Anche i 5 Stelle restano schierati per il ricorso alle urne entro giugno. Sul blog tornano ad attaccare l'ex presidente della Repubblica Napolitano dopo le parole di quest'ultimo sul voto alla scadenza naturale della legislatura e accusano il PD in commissione ha fatto melina, segno che in realtà non vuole il voto. Noi comunque restiamo decisi anche a batterci contro i capilista bloccati. Noi siamo sempre stati per un'introduzione della preferenza e quindi è un po' un controsenso avere dei capilista bloccati. Evidentemente questo è qualcosa che forse farà comodo a qualche corrente interna del PD ma questi sono dei ragionamenti che fanno parte soltanto della sfera dei partiti. A noi ci appartengono un po' meno.